Fondazione Milano Cortina 2026 cerca 15.000 volontari per le Olimpiadi e 3.000 per le Paralimpiadi. Le candidature potranno essere presentate da settembre, ma la mobilitazione sul territorio è già cominciata. L'Associazione Nazionale Alpini ha già iniziato a presentare il piano Team 26 ai propri iscritti, al punto che conta di raccogliere le prime disponibilità entro il 20 luglio. Come è accaduto anche nelle precedenti edizioni dei giochi, ai volonterosi sarà garantito il vitto, più la divisa e i gadget, ma non l'alloggio, un nodo quest'ultimo che resta da sciogliere sia in Veneto che in Lombardia, non essendo stata trovata al momento una sufficiente disponibilità da parte degli alberghi per accogliere gli addetti ai lavori e a cominciare dalle forze dell'ordine. Per poter presentare la propria candidatura occorrerà aver compiuto 18 anni entro il 1 novembre 2025, conoscere l'italiano e l'inglese oppure altre lingue ed essere pronti a partecipare ad eventi di selezione e formazione dando una disponibilità minima di giorni.